Buonasera, buonasera, bentornati, grazie per essere in nostra compagnia 2245. Se ci avete seguiti fin qui sapete anche perché siamo in onda, perché la campagna elettorale è ufficialmente iniziata, perché le griglie di partenza ci sono, perché le squadre sono già in campo, perché sulla scrivania di Gino Vitale, segretario regionale degli Azzurri, c'è già una richiesta di dimissioni ed è firmata da una parte del suo stesso partito ed è firmata da Big del calibro di Adriana Polibortone, perché da una certa parte di Partito Democratico accusano Matteo Renzi di aver blindato i fedelissimi e però la stessa accusa che una parte dei renziani di Puglia fa a Michele Emiliano, perché nel campo dei pentastellati le parlamentarie continuano a generare fibrillazioni e nelle altre parti di campo, non si sta meglio. E allora se ci avete seguiti fin qui sapete anche che in questa parte di partita in campo restano soltanto i protagonisti, allora proprio come nella box fuori i secondi, bentornati, da qui si riparte copertina e poi partiamo. Il derby dei territori ormai definito, nella lunga notte delle liste le politiche hanno già i primi testa a testa. Nel collegio camerale di Molfetta, ad esempio il fittiano Gino Perrone, ex sindaco di Corato, prova a battere Francesco Spina, ex primo cittadino di Bicelli e appil centrista, traslocato tra le polemiche tra i dem, Maria e Emiliano. Sinistra italiana punta sul segretario provinciale Nico Bavaro, quota liberi uguali contro la pentastellata Francesca Galizia e Alessandra Galliani di Casa Pound. Avvincente tanto quanto la contesa nella vicina Andria. Lì il barlettano Filippo Caraccio, l'assessore all'ambiente nella giunta del governatore, dovrà vedersela con il canosino Francesco Ventola nel quartetto blindato, ma neppure tanto, dall'ex ministro di Maglie. Lì, dal movimento di Luigi Di Maio, giocano le fischi sull'uscente Giuseppe D'Ambrosio. Nel capoluogo, intanto, la corsa delle toghe tra gli avvocati Marco Lacarra, Francesco Paolo Sisto e Michele Laforgia potrebbe vedere un gioco di sponda tra l'esponente democratico e l'alfiere di liberi uguali, magari facendo forza sulla capolistatura del segretario Dem, a gettare acqua sul fuoco. A Lecce, l'azzurro Gino Vitali resiste alle bordate dei suoi e nella scalata a Palazzo Madama incrocia il Dem Dario Stefano, Irene Strazzeri e Valerio Romano. Mentre a fare da competitor sul rientro sulla scena del tacco di Massimo D'Alema saranno il vice ministro uscente allo sviluppo economico Teresa Bellanova e l'Udc, Luciano Caridi. Big di quel collegio è anche l'ex primo cittadino del capoluogo barocco Paolo Perrone, giunto alla rottura con l'euro parlamentare di Maglie e infine Taranto, dove il presidente del Consiglio, Lucio Lonoce, a contro a Montecitorio, la giornalista Cinque Stelle, Rosalba De Giorgi e l'azzurra Stefania Fornaro. Sui risultati, nella migliore tradizione calcistica, tocca giocare la tripla almeno per ora. Ed allora, tocca giocare la tripla almeno per ora, ma i condizionali sono d'obbligo e la campagna elettorale è ancora lunga. Quartetto d'assi per questa Premier, ben trovati, grazie per essere con noi. Ed allora, in quota liberi uguali, il capoluogo si gioca il primo asso, Michele Laforgio, benvenuto, grazie per essere con noi. Grazie a voi, buona serata. Guida ai democratici pugliesi, ben trovato, anzi bentornato a Marco Lacarra, grazie per essere con noi. Buonasera e grazie. In quota agli azzurri, già numero uno per la città metropolitana, Francesco Paolo Sisto, ben trovato. Buonasera a tutti. Direttamente da via Capruzzi, quasi buonanotte, ad un passo dalla buonanotte, direttamente da via Capruzzi, Antonella Laricchia, in quota ai pentastellati, ben trovata, benvenuta con noi. Buonasera a tutti e grazie a voi per avermi invitata. E allora, segretario Lacarra, delle liste dei democratici Enrico Letta, che non è un pericoloso destrorso, ma da quella a metà campo viene, dice che è un regalo importante e soprattutto immeritato a Berlusconi e ai 5 Stelle, un'incredibile corsa verso l'abisso. Ha ragione lui? Io credo che sia stata un'opera complicata quella di mettere a punto le liste. Sappiamo che abbiamo avuto una nuova legge elettorale che ha modificato il sistema. ma noi eravamo un po' abituati, purtroppo, a un sistema elettorale, il Porcellum, che aveva forse, diciamo, ci aveva abituati culturalmente molto male e aveva forse consentito ad alcuni parlamentari di sentirsi ormai a casa come se fosse il Parlamento la loro, diciamo, dimora abituale. Non è così, è stato complicato rimettere a posto un po' tutti i tasselli del puzzle. Credo che in Puglia alla fine si sia trovato un equilibrio. Consideriamo che negli uninominali non c'è nessuna presenza estranea ai territori e gli uninominali sono stati alla fine nella disponibilità piena dei partiti territoriali, sia pure con qualche piccolo inciampo che è derivato dalla necessità di applicare anche la parità di genere anche nei collegi uninominali. Qualche piccolo inciampo, dice, voi ne state uscendo con una sede dei democratici di Taranto occupata in protesta contro la capolistatura di Ubaldo Pagano, con una lettera al nazionale... Non certo sugli uninominali, io parlavo degli uninominali. Per quanto riguarda invece la parte proporzionale sulle liste plurinominali c'è stato un equilibrio che evidentemente non è stato di natura territoriale ma riguardato le varie componenti del nostro partito. Qui in Puglia c'è la componente Emiliano che ha una sua presenza forte e radicata per cui gli esponenti che quella area ha offerto al segretario nazionale Renzi evidentemente hanno determinato questo cortocircuito territoriale. Dall'Ariolando parlano di livelli locali esautorati nella scelta di quei listini, è così? Ma io credo che nel plurinominale fosse già nelle cose la scelta da parte del nazionale e l'intervento del partito nazionale su quelle che sarebbero state le scelte. Credo che sia anche comprensibile che ciò sia accaduto. In Puglia ritengo che lo spazio al governatore Emiliano sia stato dato. Parlare di emigrazione quando si fa riferimento a esponenti del nord della Puglia che si cambia nel sud della Puglia, insomma siamo stati abituati a molto peggio in passato. Poi le chiedo se questa larga mano concessa al governatore sia un modo anche per evitare che ci si possa smarcare nel day after delle elezioni. Ma questo glielo chiedo tra poco perché invece chi una leccese ce l'ha nel listino in seconda posizione è Francesco Paolo Sisto. Quindi evidentemente in casa vostra queste questioni si pongono, ma si pongono diversamente. In Forza Italia, nelle liste di Forza Italia tanti paracadutati, così si suol dire in questi casi, da altre parti d'Italia. Ci sono gli extra regionali, Domenico Scilipoti, Viceron Zulli, Daniela Santanchè, non in quelle azzurre, in quelle di Fratelli d'Italia, provocazione al volo. La Puglia da Emilia Nera come si suol dire a terra di conquista? Diciamo subito che ci sono posizioni e posizioni. È evidente che c'è una doppia lettura. C'è la lettura territoriale e c'è la lettura nazionale. Questa è una legge elettorale che ha voluto il Partito Democratico. Diciamocelo con molta chiarezza. Noi l'abbiamo in qualche modo subita per un solo motivo, per evitare che la Corte Costituzionale potesse scrivere una legge elettorale, che sarebbe stata un'ignominia per un Parlamento incapace di scriversela. Noi eravamo per il Tedeskellum, che era una legge tutta proporzionale, come la Costituzione imponeva dovesse essere una legge elettorale. Basta leggere i lavori preparatori. Una legge che sarebbe stata certamente più equa. Il Partito Democratico si è voluto cucire addosso una legge elettorale. Ahimè, capita spesso che si vuole cucire addosso una legge elettorale e poi si accorge che l'abito non è proprio perfettamente capace di essere indossato, come in questo caso. Le liste sono state formulate secondo alcuni criteri, alcuni discutibili, non c'è dubbio. Alcuni cambiati, perché c'è stata una fase nella quale ad un certo punto Gino Vitali ha detto troppe fibrillazioni sui territori, adesso si ricomincia da zero. Io sarei pocauto sui comunicati e sulla gestione del momento della difficoltà. Diciamo che dei difetti ci sono stati, come in tutti i partiti. È inutile dire che le nostre liste sono perfette. Non lo sono. Ci sono stati dei problemi, ma voglio dire una cosa che credo sia il leitmotiv di questa campagna elettorale. 32 giorni, forse 31, non è una campagna elettorale sui singoli, è una campagna elettorale sui simboli, cioè sui partiti. Cioè quanto potrà incidere il singolo in 30 giorni, soprattutto se è persona che magari non è mai stata in politica, che ha fatto altro, potrà incidere formalmente, ma sostanzialmente. Noi dovremmo chiederci se votare l'unica coalizione capace di garantire governabilità e parto dalla nostra coalizione, dal centro-destra. Oggi un voto non dato al centro-destra è un voto sprecato. Nessuno può governare se non il centro-destra. Immagino che gli altri possano dire lo stesso della loro. No, no, sondaggi alla mano. Io ho i propri sondaggi di oggi. Posso soltanto dire che la coalizione del centro-destra è al 37,5%. Gli altri sono lontanissimi, anni luce e lontani. Quindi chi vuole dare governabilità non ha scelta. Aggiungo che è tanto vero che è un voto non sui singoli, ma sui simboli, che anche il Movimento 5 Stelle, non me ne volere, sono i sondaggi, non lo dico io, perde. Liberi e uguali, perde. Il Partito Democratico fatica a non perdere tutto, quasi, quello che aveva guadagnato. Coalizione che regge anche dopo il voto. Glielo chiedo perché poi sulla flat tax Berlusconi dice il 23, Teresa Salvini dice il 15 sulla quarta gamba, idea si è in qualche maniera disimpegnata, dicendo in queste ore... Mi interessa completare questo tema veramente rapidissimamente. Cioè questo deve essere ben chiaro. Oggi chi non vede, ma con semplicità, che soltanto la coalizione di centro-destra può garantire governabilità, vuol dire che non vuole vedere. Si mette le mani davanti agli occhi. E a titolo. Ce lo siamo meritato questo successo, almeno nei sondaggi. Noi ci auguriamo che possa essere anche nel... Per quel che valgono i sondaggi in questo momento della campagna. Però quando i sondaggi sono tutti, in un certo senso, e sono tutti in questo senso, avranno pure un significato. Cioè non è che c'è un conflitto fra case che effettuano questi sondaggi. Tutte le case dei sondaggi, tutte le agenzie, tutti gli esperti portano questo trend. Centro-destra in costante crescita, Movimento 5 Stelle che qualche cosa comincia a perdere, Liberi e Uguali che ha perso tanto dall'inizio della campagna elettorale a oggi, quasi il 2% del Partito Democratico che fatica a mettere le mani sui buchi da dove l'acqua del consenso fuoriesce. Per quanto concerne poi la coalizione, una coalizione non è un agglomerato di persone identiche. Cioè guai se fosse così. Cioè se noi fossimo uguali alla Lega e uguali ai Fratelli d'Italia e uguali agli amici della cosiddetta Quarta Gamma, ma chiamiamoli come si chiama noi con l'Italia, beh, non sarebbe una coalizione. La coalizione è un'offerta diversificata. A patto che Reagan è l'amalgama. Certo, ma cominciamo a dire che è un'offerta diversificata. Forse l'Italia è un partito moderato e si decresce, perché l'Italia è un partito naturalmente moderato, è un paese naturalmente moderato per i moderati. La Lega ha un suo elettorato, Fratelli d'Italia ne ha uno suo, noi con l'Italia ne ha probabilmente un altro, diciamo, che si pone un po' in mezzo. Chiaro che poi sarà il senso di responsabilità dei vari leader della coalizione a far sì che si possano trovare... Noi abbiamo sottoscritto un programma, non lo dimentichi. Questo è un fatto molto importante. A differenza degli altri, io mi sono permesso di leggere i programmi, diciamo così, molto, come posso dire, semplicistici. Cioè, una migliore giustizia, una cosa più socialità, meno poveri. Cioè, voglio dire, slogan che in qualche modo... Noi sulla Flat Tax abbiamo fatto uno studio che anche il Financial Times... Senti che poi su quella ci torniamo. Sì, però voglio dire, noi abbiamo proprio delle indicazioni molto, molto specifiche. Cioè, il nostro programma, io ho collaborato ad una parte, si è scritto da esperti, cioè noi siamo andati a toccare tutti i gangli, tutte le negatività di questi cinque anni di governo proponendo delle cose serie. La Flat Tax è una bomba. Cioè, sarà capace davvero di farci avere quelle risorse da investire poi in tante altre situazioni. Ci sono gli auspici della vigilia. E su una sola parola, su Sud, noi ci batteremo, e io mi batterò se avrò la fortuna di stare in Parlamento, soltanto con questa mantra, il Sud, la Puglia, Bari. E su quello non dubito che anche i suoi colleghi abbiano la stessa opinione. D'altro canto, Michele Laforgi, in conferenza stampa, ha detto io non voglio andare a Roma, io voglio essere un deputato di Bari, che porta Bari a Roma. Tra l'altro ha detto anche un'altra cosa, dobbiamo fare quello che abbiamo già fatto, per cui è la continuazione di un impegno. Ancora in queste ore, Romano Prodi diceva la differenza tra la coalizione del PD e quella di Liberi Uguali è che la prima punta ad unire il centro-sinistra, la seconda no. Si possono conciliare queste visioni? Sì, io volevo incominciare da una premessa, che come qualche volta mi capita nella vita, sempre più frequentemente, non sono d'accordo con l'avvocato Sisto. Almeno in politica però cerchiamo di essere d'accordo. Ha detto una cosa, a mio avviso, molto grave, che noi non dobbiamo votare le persone, ma dobbiamo votare i simboli. Non ho detto questo. Che non contano le persone, che contano i simboli. E tra l'altro può anche fare a meno delle elezioni, perché ha già annunciato al popolo intero che hanno vinto le elezioni con il 37,5%, quindi è inutile fare campagna elettorale, è inutile andare alle urne, il Paese è già consegnato nelle mani del centro-destra. Io la penso esattamente all'opposto. Cioè penso che quello che succederà il 5 marzo lo decideranno i cittadini quando andranno a votare il 4 marzo. Che i giochi non sono ancora fatti, perché tutti i sondaggi sono stati fatti con una legge elettorale nuova, non tenendo conto dei candidati, e invece tutti sottovalutano, secondo me anche i sondaggisti, il peso dei candidati, perché alla fine in tutte le circoscrizioni elettorali ci sarà un collegio uninominale, cioè ci sarà una lista di persone da votare, e quindi a mio avviso alla fine il voto sarà opportunamente orientato sulle persone. Ora io capisco naturalmente che c'è chi interessa invece a fare un ragionamento da supermercato, da reclam di deodoranti. Noi ne abbiamo 10, il nostro ha l'etichetta migliore, quello costa di meno, questi ne compri tre, ne prendi quattro, ma la politica, quella almeno che penso io di aver fatto per qualche anno, qualcun altro l'ha fatto in Parlamento, io l'ho fatta fuori dal Parlamento, dovrebbe essere fatta di altro. Quanto alla domanda sulle coalizioni di cui si parlava prima, il PD non è una coalizione, piaccia o no, è un partito, ha avuto per anni la vocazione di essere il partito unico del centro-sinistra, non lo è più, oggi esiste un'offerta diversificata anche nella sinistra e purtroppo il Partito Democratico e Forza Italia e centro-destra hanno consegnato al Paese una delle peggiori leggi elettorali degli ultimi decenni. Lasciamo perdere il latino che non interessa nulla. Della quale la prima dice l'unico risultato è che non vincerà nessuno e saremo in una fase di stallo già dal giorno dopo. Credo che la legge sia stata fatta esattamente per questo, cioè per garantire al Paese ingovernabilità perché nell'ingovernabilità in realtà governano i più forti e naturalmente i più forti non sono i poveri, non sono i giovani, non sono le donne, non sono i precari, non sono gli immigrati, sono quelli che le risorse già le hanno, sono i governi che fanno in realtà le politiche per la povertà, per l'immigrazione, per le donne e per i giovani. Esattamente quello che in questo Paese non si è fatto, ma non è che non l'ha fatto il PD, non l'ha fatto Berlusconi per tutti gli anni che ha governato, sono 15 anni che Berlusconi dice che deve abbassare le tasse, adesso si è inventato che deve fare la flat tax di cui parleremo più tardi. E però per cambiare le cose ci vogliono i numeri e Michele Emiliano in queste ore in un'intervista al Corriere ha ricordato in qualche maniera uscire dal PD perché si è contro Matteo Renzi significa fare lo stesso gioco di Matteo Renzi e fare in modo che quel PD diventi un partito personale e però a quel punto se quel partito ha i numeri, quel partito dalle carte, i numeri di Liberi Uguali in questa fase girano attorno al 6-7%, la provocazione potrebbe essere perché questa non dovrebbe essere una battaglia di rappresentanza? Guardi, ripeto, io i numeri li posso calcolare soltanto come nelle partite di calcio al novantesimo, cioè quando poi gli elettori vanno a votare e mettono le croci sulle schede, là si contano i numeri, ma questa bizzarra idea che sta dietro la legge elettorale per la quale se tu non hai la maggioranza non ti devi neanche presentare le elezioni perché non rappresenti nessuno, è un'idea profondamente antidemocratica, è esattamente l'idea che ha sgovernato il Paese negli ultimi anni perché ha allontanato i cittadini dal governo della cosa pubblica. Io non so che percentuale potrà prendere Liberi Uguali, so però che c'è un dannato bisogno in questo Paese di persone che si riprendono la politica, che ricominciano ad occuparsi di politica, non soltanto per governare o per andare in Parlamento, semplicemente per occuparsi del governo della cosa pubblica che è un problema che riguarda tutti. Va bene, il governo della cosa pubblica, la ricchia e i numeri citavamo con il buono La Forgia, per voi questa è una sorta di prova del fuoco, una sorta di prova del nove, la prova della maturità con Luigi Di Maio che a un certo punto comincia a dire abbiamo cambiato idea, non è più il momento di uscire dall'euro, con il movimento che toglie il famoso tabù della doppia candidatura nel collegio e nel listino e questa è la fase della maturità del movimento. Dunque, il Movimento 5 Stelle è diventato di governo e non di lotta. Il Movimento 5 Stelle è una forza che si assume la responsabilità di governare questo Paese, assolutamente. Ha dovuto fare i conti però con una legge elettorale che per usare un eufemismo diciamo non ha voluto. in realtà l'ha osteggiata con tutte le sue forze ma destra e sinistra sono andati avanti come un treno perché vanno sempre avanti come un treno quando si tratta di conservare le loro poltrone perché a questo serve. Quelle che qualcuno chiama coalizioni io non posso che chiamarle ammucchiate. Sono ammucchiate di persone che hanno differenze di vedute totali per quanto riguarda il programma ma che sono insieme oggi per cercare di conservare il più a lungo possibile le loro poltrone noi siamo davanti a un'alleanza finta che è quella tra Forza Italia e la Lega che come in Sicilia sono certa cadrà il giorno dopo il voto ricordiamo che la Lega ha già abbandonato Forza Italia tanto è vero lasciando la Sicilia nel caos e invece esiste un'alleanza reale che poi di fatto però di cui siamo tutti all'oscuro è quella tra centrodestra e centrosinistra che di fatto questa legge elettorale l'hanno cercata con tutte le forze. Il Movimento 5 Stelle ha affrontato la scelta delle candidature nei plurinominali facendo scegliere i propri iscritti e quindi attraverso le parlamentari online e poi invece quando si è trattato di scegliere delle quali Stefano Alparone attivista storico candidato sindaco di Brindisi all'ultima tornata ha detto questa è una vera e propria eppurazione lo dice un candidato storico e il ragionamento è se ero degno prima per fare il candidato sindaco perché smetto di esserlo adesso se mi candido alle parlamentari quello che è successo con appunto le parlamentarie ma in generale con questa che qualcuno chiama la nuova fase del Movimento 5 Stelle è in realtà semplicemente un adeguamento se vogliamo a questa legge elettorale è la scelta di aprire completamente le porte nel momento in cui si aprono le porte del Movimento alla società civile naturalmente il capo politico si è riservato la possibilità di un parere negativo e soprattutto attraverso un regolamento e la costituzione di una nuova associazione che prevedeva appunto un regolamento che chiunque sia iscritto alla nuova associazione ha di fatto accettato anche sulle alleanze porti aperte me lo chiedo perché Matteo Salvini ha detto io ho provato a dialogare con i 5 Stelle gli ho chiamati a confrontarsi sulle tasse sulle pensioni sull'immigrazione non c'è stato verso guardi il piano B qual è se nel day after del 4 marzo la maggioranza non si dovesse avere il piano B qual è si va in Parlamento e si chiede la fiducia si va in Parlamento e si fa un appello pubblico a tutte le forze politiche sui temi io condivido la scelta di non allearsi ma di condividere i temi perché non capisco non ho una forma di trasparenza di dirlo prima all'elettorato il nostro programma e la nostra forza di governo sarà resa nota prima delle elezioni anzi il programma è già noto e anche chi comporrà la nostra squadra di governo a quel punto tutti coloro che hanno detto le stesse cose che sta dicendo il Movimento 5 Stelle sul programma ovviamente non avranno nessuna difficoltà ad aderire a una forza di governo come il Movimento 5 Stelle senza però aspettarsi in cambio poltrone ma semplicemente per uniti insomma dai temi e questo quello di cui il Paese ha tanto bisogno io sono in consiglio regionale il consiglio regionale per esempio io sono sicura che destra e sinistra vanno nelle piazze e dicono di essere contrari ai vitalizi beh il consiglio regionale per due volte destra e sinistra hanno votato contro la proposta del Movimento 5 Stelle di abolire i vitalizi adesso mi aspetto che dopo questo mese di campagna elettorale in cui certamente tutti stanno dicendo le stesse cose che sta dicendo il Movimento 5 Stelle se non dovrà avere appunto il 40% o meglio il più la percentuale di seggi perché ricordiamolo che poi la percentuale elettorale non corrisponde alla percentuale di seggi nel Parlamento per via di questa legge elettorale assurda a quel punto Luigi Di Maio farà un appello pubblico lo ha già detto e vedremo chi insomma deciderà di stare dalla parte degli italiani e chi invece vorrà lasciare gli italiani nel caos vedo la carra che è molto poco convinto di questo che non la convince più che molto poco convinto affatto convinto che mi sembra diciamo risponde in qualche modo alla mia espressione cioè io ho sentito delle cose francamente come dire difficili non da condividere ovviamente ma da comprendere l'ultima questione sul vitalizio vorrei chiarirlo per evitare ma soprattutto vorrei sottolineare come su alcuni temi ci sia ormai come dire una esasperazione demagogica dilagante il vitalizio in regione non esiste più chi lo ha eliminato è stato il partito democratico con una legge approvata nel 2012 noi consiglieri regionali non percepiamo più alcun vitalizio vorrei come non è vero non è vero come non è vero nel 2012 allora io invito siccome le leggi fortunatamente vorrei direttore poter completare la collega Laricchi all'abitudine di sovrapporsi minimi cavallerie ma ci sta questa non è un'aula né una tribuna a prescindere dalla cavalleria dell'educazione dicevo noi nel 2012 abbiamo approvato io non ero in consiglio regionale diciamo sono fra quelli che non ha goduto neppure di un euro di vitalizia non godrà neppure di un euro l'unico vitalizio di cui potrò beneficiare è quello della mia pensione da avvocato che come sanno i miei due colleghi non fa navigare nel loro dipende pure da quanto hai pagato di contribuire ho pagato molto non ti preoccupare ho pagato molto poi vi farò vedere il mio reddito tanto è pubblico è sicuramente inferiore al vostro è sicuramente inferiore al vostro detto questo e non perché vado le tasse ma perché chiaramente stai facendo tutto io non ho detto perché questo è il tuo sguardo ho visto il tuo sguardo ho visto il tuo sguardo non mi sarei mai dicevo dicevo quindi che ho sentito anche relativamente alla diciamo poi si parla di partito democratico lideristico dove decide un uomo solo si è detto anche in queste ultime ore però un ex compagno di partito come Pasquale Dirella ha detto loro le fanno le primarie noi no nel PD beh noi le abbiamo fatte le primarie le abbiamo fatte nel 2013 ma aveva più senso noi stiamo parlando di candidati di coalizione appena orientate però abbiamo fatto le primarie ma proprio appena appena non lo so se sono state orientate da qualcuno ma certamente erano primarie che io ho fatto peraltro nel senso che sono stato un elettore attivo ho sostenuto un candidato che poi è stato eletto al Parlamento tra l'altro il nostro sindaco di Bari per cui noi le abbiamo fatte abbiamo sofferto la Forgia voi ci state al tavolo di trattative con i 5 Stelle nel caso si dovesse andare in aula a chiedere ragioniamo sul programma voi siete una delle forze papabili a quel punto innanzitutto il tavolo diciamo dopo le elezioni bisognerebbe che qualcuno si acconciasse a questa idea lo apparecchia il Presidente della Repubblica partiamo di qua perché in questo paese si è fatto strame della Costituzione e delle istituzioni non sull'ipotesi sarebbe forse il caso di cominciare a stabilire che dopo le elezioni è il Presidente della Repubblica che mena le danze stabilisce a chi affidare l'incarico se non c'è una maggioranza netta è al Presidente della Repubblica che spetta questa responsabilità dopodiché la prima domanda la prima domanda da farsi è vedere dopo le elezioni ammesso che come è probabile data la legge elettorale anche non ci sarà una maggioranza cosa farà il Presidente della Repubblica se il Presidente della Repubblica chiamerà le forze politiche a pronunciarsi su un programma perché inevitabilmente bisognerà identificare una personalità e dei punti programmatici credo che tutte le forze politiche comprese Liberi Uguali si siederà a quel tavolo per valutare quel programma per parte mia io non le chiedevo un dato eminentemente politico perché poi sulla parte tecnica ci sta politicamente le vuol sapere se io mi siedo al tavolo dei 5 Stelle le rispondo di no io non mi siedo al tavolo dei 5 Stelle se sono invitato al tavolo dei 5 Stelle perché non ho motivo di andarmi a sedere a quel tavolo tra l'altro ho dei problemi anche a comprendere questo tavolo chi lo apparecchia come lo apparecchia la consigliera Ricchi ha fatto riferimento a un capo politico io mi sono chiesto chi è chi lo ha eletto se c'è stato un congresso se ci sono state delle votazioni come sono andate se ci sono delle maggioranze delle minoranze dentro il Movimento 5 Stelle temo che quello che è accaduto con le parlamentarie non sia esattamente e semplicemente una scrematura dei candidati della società civile per quello che mi è dato di leggere e credo non solo a me un po' dappertutto penso che siano stati epurati numerosissimi militanti ma su questo ma su questo solo rispondo il Movimento tra poco diritto di replica noi però ci dobbiamo fermare 120 secondi esatti e poi torniamo alla politica raccontata da chi i fatti li fa accadere a tra poco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti